ragazzi dopo il video di prima non sono contro nessuno però volevo dare le mie spiegazioni volevo dare un senso al video che ho fatto ieri quindi se bisogna fare una comparazione tra delle macchine bisogna farlo in base al tipo di macchina che si sta confrontando quindi una Toyota Yaris Cross non bisogna confrontarla con una Polo, una Volkswagen Polo GPL no, bisogna equipararla con macchine simili quindi una Renault Captur e una ad esempio Jeep Renegade quindi una macchina ibrida non vuol dire che se c'è la parola ibrida quindi bisogna fare per forza la comparazione tra le due macchine una macchina con doppio serbatoio GPL e benzina è diverso da una macchina con l'elettrico e la benzina secondo voi perché su quattro ruote o in altri video online troverete i confronti tra le tre macchine che vi ho detto prima perché sono della stessa famiglia, delle macchine ibride quindi elettrico e termico poi non mi si può dire che una macchina con 188 km fa 20 km al litro nel 2024 è una cazzata, totalmente cazzata